Si sono nuovamente rimboccati le maniche componenti del comitato di quartiere per mantenere in buone condizioni il giardino della legalità. Ancora una volta hanno cercato di rimediare i danni registrati nell'area verde presente nel quartiere San Luca, come avvenuto nei giorni scorsi, per restituire ai cittadini un luogo piacevole dove passeggiare e passare del tempo all'aria aperta. Mentre è già stata risistemata, ad esempio, la casetta del libro, risultano ancora danneggiate le fiorieri a forma di trenino, che fanno parte delle installazioni realizzate grazie al progetto verde comune dell'associazione Casa Rosetta e che erano state collocate a fine 2021 nel giardino. Continuano a distruggere quello che di buono fanno le persone, non solo di buona volontà e volontari, ma quello che fanno i ragazzi con disabilità, con tanto amore. Infatti sono stati qua in questi mesi sia il carrettino sia il trenino in Bella Mostra. C'è un afflusso di persone che arrivano da tutta la città, addirittura ho visto anche famiglie che vengono da San Cataldo e fa rabbia quando non c'è il rispetto per la cosa pubblica. Per fortuna nel comitato di quartiere ho con me una squadra eccezionale, dei grandissimi amici, dei grandi volontari, pieni di buona volontà, che qualsiasi problematica fino adesso c'è stata siamo riusciti a risolverla. Le telecamere per fortuna sono attive, però abbiamo fatto un sopralluogo con il sindaco e abbiamo chiesto di incrementare ulteriormente la videosorveglianza. Intanto le iniziative del comitato proseguono. In occasione di questo bello spettacolo inaugureremo il quarto murale dedicato a Peppino Impastato. Noi stiamo lavorando con grande passione e speriamo tanto che questo lavoro possa premiarci nel senso che cerchiamo di dare una qualità della vita il meglio possibile alla comunità di San Luca.